L'attività erogativa per la stagione 2021, per l'esercizio 2021, di fatto è partita i giorni scorsi, cioè all'inizio del nuovo anno. La Fondazione comunica la possibilità alla collettività locale, la possibilità di avanzare richieste per i contributi dell'esercizio 2021. Il nostro piano programmatico prevede per questo esercizio la disponibilità di 800.000 euro. 800.000 euro ripartiti tra interventi diretti ai vari richiedenti e anche interventi proposti dalla Fondazione come sostegno indiretto, quindi sostenimento di costi o fornitura di servizi ai vari enti cittadini. Di questi 670.000 euro, 330.000 saranno dedicati, almeno nelle previsioni ovviamente, al settore volontariato, 200.000 al settore educazione e 140.000 al settore artistico. I modi di intervento, le modalità di intervento sono variegate, nel senso che la Fondazione interviene con interventi propri, come realizzato nel 2020 col palcoscenico Marche. Interviene con contributi all'attività istituzionale, adenti, diciamo così, di eccellenza del territorio. Pensiamo, una per tutti potrebbe essere la Caritas o altre istituzioni che comunque per tradizione assolvono in maniera, diciamo così, riconosciuta, unanimemente riconosciuta, efficace. E finanziando, da ultimo, alcuni progetti che le varie associazioni e enti presentano. Questo verrà fatto tutto nell'ambito di una sessione erogativa unica, al fine di facilitare la comparazione tra le varie richieste, e essendo i fondi per natura delimitati e quindi per avere la possibilità di poter sostenere quelle ritenute, diciamo, più meritevoli nel contesto delle varie domande presentate.